Ilizia e Paolo tra due giorni si sposeranno e sono tutti emozionati, compreso Nina e Gabriele che ci mostrano le camerette. Sei emozionato per il matrimonio di mamma? Eh? Mi schiva. E tu Ninni? Sei emozionata? Sì. E tu Babi? Sì. Sei emozionato? Sì. Ninni sta personalizzando la parete del fratello con questi adesivi. Guardate che bella. Ora sì che è completa. È bellissima. E ora metteremo le fatine nella stanza di Ninetta. Andiamo! E con quelli in stanza? Eccolo qui. Che belle! Sono bellissime queste fatine. Ora ci dà dei nomi. Lei è ambra. Lei è bianca. Lei? Lei è Melody e lei si chiamerà Fiore di Zolfo. Ecco è arrivato il momento di dire sì e saranno marito e moglie. Sono belli sia Nina che Gabriele.